Hey 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 3 2 1 il king è ritornato davvero uomo su youtube avevo detto che volevo ritornare in bellezza che volevo cambiare che non sarei tornato per fare le stesse cose di sempre quindi se non faccio le stesse cose di sempre ci sono due cose che amo fare anzi tre le ragazze fortnite e mangiare se io amo fare queste tre cose ormai sono fidanzato fortnite l'ho fatto per 160 video mi metto a mangiare se io non faccio le stesse cose di sempre e voglio cercare di fare un qualcosa di diverso dal solito perché il king sa adattarsi a qualsiasi scena a qualsiasi mondo a qualsiasi piattaforma posso camminare sul liscio sul ruvido e anche sul bagnato detto queste cazzate sto per fare un video veramente pazzo il video in sé per sé è un qualcosa di assurdo voglio preparare una pizza margherita non semplice non stupida come al solito ci sono pizze margherite normalissime pizze con l'ananas pizze con brussel pizze con formaggio ma avete mai visto una pizza con mille e dico mille pezzi di salama di salame e non sono nemmeno fettine di salame normale qui si parla di salame ungherese e oltre questo ci metteremo anche della salsa chili piccante venite con me venite con me ecco qui il... aiutami prendi 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 tutto ok gli ingredienti sono questi qua salame puro sono all'incirca 4 chili 5 chili di salame e si parla di 700 fettine non sono mille esattamente però ne sono tantissime cosa partiamo dalla pizza margherita la mettiamo a cuocere nel fornicello proprio qui la domanda che mi sorge spontanea riusciremo a fare questa sfida senza che io muoia letteralmente ho un po' paura però ci posso riuscire ok sto cercando di capire a quanti gradi devo mettere la pizza e la pizza va messa dove sta scritto ok scalda fino a 200 gradi quindi dobbiamo mettere questa a non credo si veda però 180 gradi si abbiamo qui la pizza è questa pizza 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 questa è la pizza ecco mia nipote che mi sta aiutando in questo video metti la pizza nel forno ok ci vediamo tra 10-13 minuti di cottura arriva ai 12 ok la pizza sembra quasi essere pronta però visto che io non sono un cuoco facciamo che la togliamo c'è una puzza di plastica e ho paura che potrebbe esplodere qualcosa come nel vecchio video allora come si spegne ragazzi assurdo come mio nipote mi insegna a spegnere il forno eh ma ci piace qualcosa qua sotto no si si squaglia siamo pronti ok allora ragazzi ho speso quasi 40 euro di salame e spero che questo video faccia visualizzazione altrimenti sono un fallito partiamo dalle prime fettine di salame questa è la prima delle tante una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ok primo strato fatto e adesso andiamo di chili questo è chili piccantissimo lo mettiamo un po' sul cucchiaio perché dobbiamo fare pizza salame e salsa piccante che sia ben chiaro le sfide se si fanno si fanno con i controcoglioni altrimenti è meglio non farle andiamo con il resto vediamo come ne posso mettere una una vedi battai così questa qua è grandissima mamma mia questa qua è grandissima ok ragazzi non le prendo una alla volta perché altrimenti finirei letteralmente domani però cioè se si vede che è tantissimo non c'è nemmeno bisogno che che dica quanti ne sono cioè pensate che questa è solo il primo cartone e ne ho messo una boh due trecento altra buttata di chili e sicché se non è a bombe non so cos'è una bomba comunque vi ricordo che io ripendi la pancia sto a dieta e speriamo che stasera ci possa arrivare e il medico mi ha detto che si rischia la morte per fare una cosa del genere io non ci credo perché mister peto può battere anche la morte già tengo fritto in cuolla mamma mia che sta succedendo non credo in quello che sta succedendo io sei sicuro che la devi mettere tutta tutta e si tutta tutta è perché Matteo cioè io le sfide le devo vincere ormai nemmeno parlo più perché sto cercando di realizzare quello che ho combinato e perché ho fatto questo video cioè nella mia mente sembrava reale ho detto sì io posso farcela perché ho fame perché amo il salame e perché amo le pizze ma non pensavo che arrivassi ad un punto che addirittura la pizza non si vedesse più io stiamo mangiando tutto 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 io sono pazzo Matteo adesso stiamo facendo questa transition anche detta transizione o cambiamento da questo a questo piatto perché sembra che la pizza si stia quasi stia collassando dentro il salame no ma non me la faccio a mangiare ce la faccio a mangiare le sfide contro il cibo sono sempre state un qualcosa che mi rendono felice perché amo mangiare lo amo veramente tanto però vorrei anche non vomitare e spero che questa sfida non mi porta a star male una cosa che vi dico naturalmente non fatelo a casa perché tutto questo può far male può far veramente male perché ci sono non so quanto salame c'è qui sopra ma veramente tantissimo 7-800 fette sicuramente più salsa chili piccantissima la sfida di oggi è quanto riesco a mangiarmene in un minuto e se ci riesco bene se non ci riesco sarò un perdente 3 2 1 impossibile ok ragazzi dopo un minuto e 14 sono riuscito esattamente a fare questo cioè mi sono mangiato forse il quindicesimo della pizza però io non demorto e anche se ci metto tanto proverò a mangiarmene il più possibile perché il king non abbandona non abbandona se c'è un ostacolo voi mangiatevelo ma mi metto ma mi sento buona Ragazzi purtroppo mi demorde dirvelo ma purtroppo la challenge è pesta Io sono un tipo che cerca di combattere fino alla fine Da quello che avete capito, dal mio personaggio, dal mio essere, dalla mia vita privata Però questa sfida è una sfida impossibile Io sfido chiunque a provare a battermi Ho fatto il meglio di me Vedete che di pizza, allora da qui non sembra, però io di pizza me la sono mangiata veramente tantissima C'era chili piccante, super piccante, salame piccante, mille fette di salame più o meno So di non avercela fatta ma... Voglio fare sì tu c'ha facita, eh cioè con tutto il bene del mondo Non mi giudicare perché è una cosa assurda, è un abominio Ma ti sembra che in questa pancia ci può entrare una cosa del genere Guarda, non ci può entrare, è matematicamente impossibile E matematicamente impossibile Quindi se voi volete che io faccia altri video con il cibo in collaborazione con altri youtuber Ditemelo Io sono disposto a fare qualsiasi sfida pazza Però in questo caso forse ho esagerato Ho esagerato un po' troppo Questo salame naturalmente non lo butteremo perché lo riutilizzeremo Perché cioè in sé per sé non è da buttare Un saluto dal king Un saluto dal king